Come posso spiegare? Amare quando sia vero, è un don dal valore inconmensurabile, è gratitudine, è un saluto là dove il saluto poteva non esserci più, è un incontro di anime, il corpo nel ponte, la strada, il contatto attraverso il quale si libera ogni emozione. Cosa seguirebbe dopo le lacrime? Mi contengo, mi ricompongo, ma ormai questo è ciò che mi succede quando abbraccio i figli. Un abbraccio così lungo che i miei tramitanti della casa ne sono stati allontanati. Un abbraccio di chi fa parte di te, del tuo ritmo e ora si ricongiunge. Un abbraccio che mi ha spaccato il respiro. Un abbraccio Un abbraccio Un abbraccio Un abbraccio Un abbraccio Un abbraccio Grazie a tutti. Grazie a tutti.